A benedire il nuovo corso di laurea magistrale in neuroscienze all'Università dell'Aquila, oggi c'era un ospite speciale, la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, che davanti a una folta platea ha tenuto un lezio magistralis dal titolo La ricerca da fare e da raccontare. L'Ateneo amplia così la sua offerta formativa dal prossimo anno accademico, ponendosi sempre più in alto dal punto di vista della ricerca. La professoressa Cattaneo è una farmacologa, biologa, accademica e senatrice a vita, nominata nel 2013. È nota per i suoi studi sulla malattia di Huntington e per le ricerche sulle cellule staminali. Una presenza prestigiosa a parlare a studenti e docenti dell'Ateneo. Io spero davvero che si possa considerare finalmente la scienza come una nostra alleata, una grande alleata dell'uomo che ci aiuta a capire come stanno le cose intorno a noi. E con la conoscenza si disinnesca tutto, si disinnescano le paure, le discriminazioni, si combattono i pregiudizi e quindi bisogna armarsi così. È un'arma pacifica. Ma è bellissimo inaugurare un nuovo corso di laurea ed è bellissimo che sia un corso di laurea in neuroscienze, in inglese. È l'unico del centro-sud, quindi tanta ammirazione e anche tanta invidia, devo dire la verità. Le università in tutti i luoghi del nostro paese sono importanti presidi di cultura, sono centri nevralgici attorno ai quali ruota una società, perché una società senza cultura e conoscenza è una società che si chiuderà in un angolo, che non parteciperà, che non contribuirà. E invece bisogna veramente sottolineare il fatto che ovunque in Italia, anche nelle aree interne, ci sono giovani brillanti, ci sono studiosi e studenti che hanno il diritto e il dovere di partecipare a costruire la nostra democrazia. E l'università è il luogo principe dove la democrazia si forma.